siamo qui con alessio alessio un saluto a tutti i nostri fan per la sua volkswagen polo 7 pollici pioneer con funzione apple carplay android auto dub e radio più usb audio e video siamo nella funzione apple carplay gestione audio e navigatore in contemporanea se vuole andare in tutto display basta premere l'app stessa cosa per quanto riguarda la musica se vogliamo andare a vedere tutte le altre app le abbiamo qui nel momento in cui vogliamo uscire da apple carplay e andare sul menu paio ne siamo pronti abbiamo radio dub apple carplay ipod iphone via voce bluetooth nel momento in cui corre collegherà la usb si aprirà l'app usb qui siamo in dub togliamo un attimo l'audio avete visto il dub adesso andiamo in radio tradizionale eccola qui ritorniamo nel menu via voce bluetooth ritorno ovviamente in apple carplay grazie